Aragón è stato un weekend molto positivo perché c'è stato il debutto dell'Aprilia SV4 RF e siamo riusciti ad arrivare secondi. Peccato che il nostro rivale ci ha passato proprio a poche curve dalla fine perché sennò potevamo vincere, però comunque chiudere al debutto in seconda posizione è un ottimo risultato. È stato un weekend molto importante per me in aprilia.